Con la lotta, con il numero uno, Tentino e Matteo, con il numero 13, Sardegna e Massimo, con il numero 35, Riccardo e Albrea, con il numero 6, Menna e Sebastano, con il numero 7, Pannello e Stangelo, con il numero 8, Travato e Fado, con il numero 10, Riccardo e Succoni, con il numero 12, Isagatino e Matteo, con il numero 13, Iagetici e Albrea, con il numero 15, Riccardo e Fado, con il numero 18, Rameteta e Udici, con il numero 14, Patale e Matteo, del numero 8, Mister e Lucia, con il numero 18, Riccardo e Matteo, con il numero 17, Esattis e Udici, con il numero 16, Esattis e Paolo, con il numero 15, Junci e Camus e Auslan, con il numero 13, Ursus e Guettini, In lugar di a white di verità, un giunto orale, 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 un giunto o scientisti, un giunto, un giunto o ch pomerare. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 però fischiano il passivo vanno a andare solo in braccia attivo 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti